ciao a tutti il nutella prank su grown-ups però la nutella prank certo non è che non c'è la nutella in effetti ecco qui la nutella nutella cioccoletto spread meglio che vada così ebbene oggi verano i miei zii zia e zio paterno quindi dal papà tipo sia mamma i janice e zio max e la nutella prank la farò di certo in bagno dobbiamo vedere cosa succede ci sarà una camera nascosta e questa qua che mi sta registrando ed è nascosta ebbene a dopo ciao ciao a dopo aiuto qualcuno mi può passare la cartigenica aiuto mamma janice ahhh ahhh freeze no sir freeze no sir no sir mi faccia la perdita nella sopra che mi vuole grazie sai in mano scusa noooo Oh, questo è Nutella. Non è Nutella. È giocolato. Non è vero. Ma che è il termonato Sabina, la sta a YouTube sui. L'ho mai visto. Questo l'ho visto su YouTube. O per i bambini piangono. L'hai fatto a tuo fratello? Oh, 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 oh. Allora. Allora, alam lio si Max? Hindi. Passi mo yung issue all. O issue kay ate. è caca e dai cosa è in your hand è caca è caca è caca è caca è caca 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 civo civo non non è tutto giù caca 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 caccia cico 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 cico